Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di materiale nuovissimo che mi è arrivato da Castelli. Oggi 25 maggio, esce disponibile il pantaloncino premio black. In pratica questo è un pantalone veramente di altissima gamma. Adesso vediamo un attimo com'è, poi vi faccio vedere com'è indossato. Insieme a questa maglia che fa parte della collezione Giro d'Italia in lana ed è veramente particolare. Ieri ho fatto un giro con la maglia color rosa appunto, però sempre 50% lana ed è veramente particolare. Trasparente, praticamente trasparente, però super traspirante appunto, tiene caldo, insomma un capo molto particolare. E vi voglio far vedere come rimane addosso. Intanto guardiamo il pantaloncino perché è arrivato con addirittura una busta. Il pantalone più performante e confortevole di Castelli. E qui la spiegazione del pantalone. Andiamo un po'. Qui sono tutte le spiegazioni appunto del pantalone. Come potete vedere è fatto davvero bene, ma adesso lo andiamo a vedere. Questa è la costruzione proprio del pantalone. Il fondello, i due pezzi perché non ha cuciture, le brettelle e via dicendo. Comunque andiamolo un po' a vedere dal vivo e dentro. Vediamo un po' com'è. Questa è la confezione. E già qua vi fa capire che il livello è altissimo. E questo è il pantalone. Allora, prima cosa togliamo l'etichetta. Spettacolo, il marchio all'interno. Questo considerate che rimane completamente coperto, questo marchio qui. Il marchietto così piccolo a me piace davvero molto. Allora, il pantalone esteticamente l'unico segno di riconoscimento di Castelli è questo marchio nero su nero che ha sulla gamba. Non ci sono marchi colorati all'esterno e la gamba ha questa finitura con i pallini ruvidi. Non ha la striscia di silicone, quindi è senza strisce, senza la classica banda di silicone. Finitura laser. Adesso vi faccio vedere come sta indossato e ci andiamo a fare un giro così vediamo un po' come rimane in bici. Dietro sul sedere qui c'è scritto rosso corsa, però sempre nero su nero. Quindi pantaloncino completamente nero. Come fondello vediamo un po'. Fondello Castelli, sicuramente super confortevole e non ci resta che andare a vedere come sta addosso e provare. Molto bello, molto leggero. Il pantalone premio black da oggi è disponibile da Castelli e invece questa è appunto la maglia in lana facente parte del gruppo delle maglie del Giro d'Italia. Quindi maglia rosa, montalcino e maglia nera sono in lana. Ho ricevuto queste tre da provare, ieri ho provato la rosa veramente fantastica. Oggi vi faccio vedere come sta la maglia nera in lana insieme al pantalone premio black di Castelli. Andiamo in bici. Come potete vedere la maglia è davvero leggerissima, è praticamente trasparente, si vede sotto la canotta. Però la sensazione addosso è di una maglia davvero confortevole, morbidissima e protegge esattamente come le altre. Comodissima davvero. Pantaloni spettacolo, sembra di essere su un cuscino senza cuciture. Eccoli qua. Pantalone come vedete è taglio laser, finisce proprio sulla pelle così, si risvolta, c'ha queste micro rughette che lo tengono attaccato alla pelle. Tutta questa parte da qua a qua è la parte appunto con le rughette e poi c'è questa parte zigrinata ancora che mantiene completamente fermo tutto il pantalone mentre si pedala. Questa è davvero una seconda pelle. Per la maglia invece è davvero trasparente, guardate. Ok. Trasparente però soffice, molto soffice. Dovreste toccarla al tatto fa impressione. Morbidissima e quella rosa è stupenda. Il colore è fantastico. Spero che questo video vi sia piaciuto. Guardate un po' all black. Non è il massimo per la visibilità. Qui bisogna mettersi un faro in testa perché comunque sono completamente tutto nero però tanta roba. Bellissimi materiali, super tecnologici. Grazie ancora a Castelli per questo fantastico materiale. Ciao, alla prossima!